Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale, come abbiamo già detto durante prima, oggi è dedicata alla pagina sindacale, in particolar modo vi riferiamo di come le sigle presenti sul territorio stanno affrontando la problematica riconducibile alla disoccupazione dilagante che interessa soprattutto i lavoratori dell'indotto della raffineria Eni, ne abbiamo parlato con il segretario della Wiltequil, Maurizio Castania Maurizio Castania, l'emergenza occupazione gela è molto evidente, soprattutto nel 2016, ci auguriamo che nel 2017 questo trend possa cambiare, le chiedo subito che anno è stato per il sindacato? Il 2016 è stato sicuramente un anno difficile da gestire perché automaticamente non ci sono state quelle affermazioni di cantieri che si erano previste nel protocollo d'intesa si sono raggiunti degli obiettivi per quanto riguarda la raffineria di Gela e alcune cose per quanto riguarda le bonifiche ambientali di Sintial stendono ancora a partire e a decollare tutta quella che è l'attività dell'esplorazione e perforazione che era quella che in via di massima doveva in tutti i modi far sì che la popolazione dell'indotto in particolar modo fosse presa a lavorare nei vari cantieri Ecco a proposito di indotto, è proprio l'indotto che soffre, come si può arginare questa situazione? L'argine dell'indotto può essere fatto solo con l'evoluzione dei cantieri noi stiamo tentando di pressare soprattutto, ripeto, per la questione dell'esplorazione e perforazione di avviare tutta una serie di cantieri a partire anche dalla piattaforma a terra che questa permette di assimilare e portare tantissimi lavoratori, soprattutto metalmeccanici ed edili che sono quelli che stanno soffrendo di più in questa vertenza poi bisogna continuare a pressare le istituzioni perché non vengono a far meno le autorizzazioni che servono per l'apertura dei cantieri, pertanto bisogna lavorare in sinergia da un punto di vista di interlocuzione si è fatto un buon lavoro nel 2016 bisogna non abbassare la guardia assolutamente, bisogna in tutti i modi possibili parlare con le istituzioni e far sì che le autorizzazioni previste, senza che ci sia una strumentalizzazione di natura politica possono arrivare per far sì che il paese possa non portare la normalità perché la normalità non è possibile portarla in questo periodo ma avere più speranza di attività lavorativa Ecco, ma ci sono dunque buoni propositi per il 2017 da quello che noi capiamo? Diciamo da un punto di vista della Green Refinery sicuramente sì stanno avviando tutta una serie di lavori che permetteranno di assorbire una quota parte di quell'intotto Ripeto, rimane un tallone da kill ma faremo il pressing dovuto soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione e perforazione Per quanto riguarda il personale del diretto siamo arrivati alla punta massima nel senso che ormai siamo arrivati a quelli che sono infatti di 400 unità nel progetto finale sono state messe in campo nuove iniziative che dovrebbero invertire la rotta cioè non più personale verso l'uscita ma del personale che dovrebbe rientrare tra quali il progetto CARS che è un progetto abbastanza di prospettiva per quanto riguarda quelle che sono il sistema delle autorizzazioni e quello che è il sistema dei badge Intanto oggi Gela torna in piazza per pregare per il lavoro Lo faranno le mogli degli ex operai dell'indotto che per le 18.30 si sono dati appuntamento in piazza Umberto I per pregare per le sorti dei loro mariti Una feaccolata per chiedere lavoro e dignità Ad organizzarla è Marisa Bevilacqua portavoce del comitato delle mogli dei mariti licenziati dell'indotto della raffineria E sulla vicenda Eni abbiamo raccolto la testimonianza del segretario generale della Filtema CGL Gaetano Catania La riconversione Green sostiene il sindacalista rimane tuttora una speranza nonostante i proclami Oggi facendo un punto della situazione verifichiamo che nella sua inderezza il protocollo non sta andando avanti Ecco in percentuale proprio rispetto all'accordo del 6 novembre del 2014 a Gela quanti cantieri sono partiti? Io non interverrei sui cantieri ma farei una disamina nel protocollo perché noi abbiamo l'aspetto green abbiamo l'aspetto upstream e l'aspetto delle bonifiche quindi se entro nei cantieri è come se fosse una parvenza che c'è un'attività io vorrei entrare invece sui tempi di realizzazione del protocollo stesso per quanto riguarda la green è passato un messaggio mediatico dove si dice che entro il 2018 ci sarà la green ma non è così rispetto al protocollo perché nel protocollo c'era scritto che entro il 2017 dobbiamo avere la green aspettiamo un incontro a breve scadenza con l'azienda, un incontro tecnico per fare una verifica sulla green stesso per quanto riguarda il settore upstream ci sono le dolenti note dovute al fatto che da un lato ci hanno proposto una rimodulazione del progetto per quanto riguarda Agro Cassiopea nella rimodulazione portano un oscillitamento dei tempi perché doveva partire entro il 2019 l'agro Cassiopea e invece sarà entro il 2020 quindi c'è un anno di oscillitamento anche se loro dicono che anticipano ma non capisco che significa anticipare però c'è un dato negativo che emerge sull'upstream che è la produzione di petrolio rispetto a mesi addietro e si è ridotta di circa 6.000 barrile al giorno quindi siamo a 14.000 barrile al giorno rispetto ai 20.000 questo ci fa preoccupare significa che non sono stati fatti quegli investimenti che hanno permesso di aumentare la produzione di greggio e quindi anche di gas e quindi sulla base di questo c'è un altro problema che emerge perché nell'upstream in Enimed hanno confluito altri 120 unità quindi significa che ci potremo trovare nei prossimi mesi con un problema di un costo del lavoro notevole e quindi sui bilanci andrebbero a incidere con problemi anche occupazionali e ne proseguo questo per quanto riguarda l'upstream in ultima analisi per quanto riguarda le bonifiche dicono che è partita la bonifica dell'ISAF ma dobbiamo fare un incontro specifico per capire a che punto siamo e dove possiamo arrivare parlano tutti di green ma di un verde che ancora è una speranza per il prossimo futuro una lettera straziante scritta con garbo e quasi tenerezza Vincenzo Tranito il papà di Gaia e Sofia ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questo momento di dolore atroce ecco la sua lettera che non ha bisogno di commenti ringrazio l'amministrazione comunale ed il consiglio comunale scrive Vincenzo Tranito per la sensibilità mostrata ed avuta in questa vicenda distraziante dolore ringrazio il personale del 118 prontamente intervenuto ringrazio le forze dell'ordine tutte per la loro professionalità nel gestire la drammatica vicenda in particolare l'arma dei carabinieri sento il conforto delle parole del vescovo di Don Salvo e della comunità ecclesiastica nel ricordare le mie bambine nelle loro preghiere agli organi di stampa e di informazione il merito di avere avuto professionalità e discrezione nel raccontare quanto finora dato a sapere alle maestre, alle insegnanti ed alle suore che hanno mostrato affetto e sostegno in questi giorni di dolore ho sentito scrive Vincenzo Tranito e sento ancora forte la vicinanza della commossa folla di cittadini colleghi ed amici e conoscenti anche loro attoniti e storditi partecipi al mio strazio affido a queste pocheriche il mio sentito sincero ringraziamento la lettera è firmata come dicevamo da Vincenzo Tranito il papà di Gaia e Sofia le due bimbe uccise dalla madre preoccupazioni ieri sera per i residenti di via Butera Gela i gnoti hanno appiccato il fuoco ad una delle palme che costeggiano la strada l'albero si è trasformato in una torcia paura anche per gli automobilisti in transito nella zona sul posto sono arrivati i pompieri del locale di staccamento è divenuta purtroppo una vera e propria brutta abitudine quella di depositare la spazzatura sulla strada che dalla saletta sindacale Eni conduce alla zona industriale di Gela questa mattina così come testimoniano le immagini l'arteria era colma di numerosi sacchetti materiale in plastica tra cui contenitori di detersivi ed anche lattine di tutto di più vengono rimossi e il giorno seguente ricompaiono purtroppo sempre più consistenti si sono ritrovati in assemblea sindacale la camera di commercio nonostante i loro contratti siano scaduti lo scorso 31 dicembre 41 precari dell'ente per reclamare i loro diritti e decidere di concerto con i rappresentanti sindacali le azioni da intraprendere a causa infatti dell'entrata in vigore del decreto legislativo 219 del 2016 di riforma delle camere di commercio i contratti del personale a tempo determinato non sono stati prorogati una situazione che in Sicilia riguarda 82 lavoratori un disagio per i lavoratori e le loro famiglie che si riflette anche sui servizi all'utenza che a partire da oggi subiranno rallentamenti o la sospensione temporanea ad eccezione di quelli online che saranno erogati regolarmente noi stessi abbiamo detto ai lavoratori di venire a lavorare oggi perché secondo noi non esistevano le ragioni di tale bancato rinnovo contrattuale nei giorni scorsi in tempi utili abbiamo chiesto all'ente camerale di provvedere alla proroga dei contratti proprio in presenza di una legge regionale che stabiliva la proroga e di una legge nazionale che la risosteneva loro ci hanno risposto dicendo che aspettano un intervento nulla ossa dell'assessorato di attività produttiva e del ministero per lo sviluppo e a noi questa risposta non ci basta perché la riteniamo inutile e anche poco congua considerando il fatto che questi lavoratori non solo si ritrovano a non aver continuato la loro attività lavorativa ma anche l'utenza viene pregiudicata da questo mancato rinnovo ricevuti dal segretario generale Guido Barcellona i precari e i sindacati hanno espresso le loro perplessità sulla mancata proroga dei contratti in questo momento la Camera di Commercio subisce come tutte le Camere di Commercio italiane la riforma del sistema camerale la legge 219 del 25 novembre 2016 entrata in vigore il 10 dicembre 2016 all'articolo 3,9 vieta qualunque tipo di rapporto di lavoro a far data appunto dall'11 dicembre questa proroga per quanto diciamo sia un atto come dire di innovazione del contratto di lavoro o sia un atto comunque di proroga appunto di questo personale impatta con questo divieto imposto e che è un divieto come dire tassativo ciò non toglie che l'amministrazione della Camera di Commercio spera e ritiene che la norma regionale di proroga possa in qualche modo superare questo problema e quindi risolversi il problema del personale precario della Camera di Commercio di Calcanisetta che potrebbe appunto grazie a un chiarimento che potesse arrivare dall'assessorato dalla Regione e anche dal Ministero grazie a questo chiarimento si potrebbe superare questa problematica Intanto i lavoratori e i sindacati che hanno deciso di chiedere un incontro urgente al prefetto si ritroveranno in sit-in dinanzi la Camera di Commercio martedì 3 gennaio a partire dalle ore 9 Continua fino al 6 gennaio nei locali del Palazzo di Città Gela la terza mostra di presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dalla associazione turistica Proloco Gela l'iniziativa il cui ingresso è completamente gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco i presepi come simbolo di rinascita verità e giustizia frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole dell'artigiano artista della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività è presente anche una bancarella di beneficenza dello Soloptimist Club di Gela la mostra può essere visitata dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'epifania e può essere visitato i prossimi 5 e 6 gennaio il presepi vivente allestito dalla associazione Smuff Sport Musica Art e Folclore presieduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamento dalle 19 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela Continuano le festività ormai è passato il Natale è passato il Capodanno però in cucina troveremo sicuramente qualcosa ancora da smaltire ma soprattutto in pasticceria per quanto riguarda appunto i dolci siamo nel laboratorio di pasticceria di Francesco Cassarino Peccati di Gola che ci darà qualche indicazione per utilizzare qualche prodotto che sicuramente abbiamo in casa e preparare ancora qualcosa di molto sfizioso e buono Sì diciamo questa è un'altra variante ancora al panettone dove possiamo sbizzarrirci con la pera che magari avevamo fatto la variante del panettone dove c'è rimasta questa pera che magari va bene si può mangiare naturalmente però io mi sono preparato un frullato di pera Come l'abbiamo fatto? Niente non ho fatto altro che pulire in pratica e farmi un frullato con un mixer comune che esiste a casa Aggiungendo acqua o qualcos'altro? No Niente Soltanto pera Solo pera Quante pere abbiamo messo qui? Queste sono due pere Mi sono preparato diciamo della ricotta che naturalmente troviamo nei nostri supermercati i nostri chi ci fornisce naturalmente Frullata con lo zucchero? Questa è frullata con lo zucchero un mezzo chilo di ricotta già è abbondante Con quanto zucchero? Zucchero noi consigliamo sempre un 300-350 grammi non superare mai il mezzo il 400 grammi perché va oltre diciamo la tenuta della ricotta essendo una ricotta diciamo poi c'è chiusa quella di pecora c'è chiusa quella diciamo vaccina cambiano anche le percentuali Dipende anche molto dai gusti Sì 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 anche se la vaccina andiamo sul sicuro è una cosa poi sono una cosa Certo gusti personali Questo è un dolce al cucchiaio perché come vedete abbiamo scelto dei finger food praticamente Stiamo facendo qualcosa sul finger food in pratica non facciamo altro adesso di aggiungere della ricotta dobbiamo solo comporre il nostro dolce abbiamo il solito panettone che è avanzato dalle feste con cui vedete abbiamo preparato tantissime cose deliziose in queste piccole rubriche di pasticceria stiamo preparando dei pezzettini di panettone anche questa volta li riduciamo a pezzettini piccoli no in pratica io sto prendendo della ricotta la sto mettendo nel come base come base esatto vado a usare questo di una semplicità unica ho questa pera frullata dove vado a creare una situazione anche accattivante per quello che possa riguardare i colori i colori ecco esatto dove io magari vado a stupire i miei amici che vengono a casa le mie amiche e allora è la guerra del chi ne sa di più questo è veramente semplicissimo da realizzare anche molto veloce se avete ospiti a cena semplicemente volete preparare qualcosa per la vostra famiglia all'ultimo minuto sicuramente il panettone lo avrete a casa due pere da frullare e della ricotta che magari vi è avanzata perché avete preparato qualche altra cosa sto mettendo il mio panettone niente di difficile niente di complicato mi sono preparato la mia base dove poter in pratica mettere qua sono libero di fare quello che voglio in questo caso la signora a casa può fare quello che vuole e noi invece in questo caso cosa abbiamo usato della panna fresca che piace tanto anche ai bambini quindi in questo modo possiamo anche fargli ad esempio mangiare della pera della frutta della frutta esatto questo è del pretesto anche per far mangiare i bambini come dicevo poco fa è il discorso che ormai i bambini sono molto distratti da altre cose e non stare più attenti alle cose diciamo alimentari niente a questo punto la nostra decorazione mi faccio avanzare un po' di pera giusto anche così per dar modo di renderlo invitante magari vado a mettere semplicemente posso avere a casa anche della scaglietta di mandorla voglio dire ma guardate che roba è veramente bellissimo cioè portate in casa portate in tavola un dolce al cucchiaio così di sicuro effetto veramente molto bello poi semplice vogliamo ancora esagerare possiamo mettere ma si esageriamo tanto diciamo che è già il gioco giochiamo molto con i colori della Sicilia anche i sapori io gioco particolarmente a me piace giocare con i colori della Sicilia infatti io ho associato tutto quello che è mediterraneo l'ho associato con la pasticceria diciamo di moderna e questo mi ha permesso anche di far gustare far mangiare anche a me di presentarmi in un altro modo ma questa non è una cosa semplicissima questo è bellissimo è un dolce che sicuramente farà impazzire tutti allora con questo dolce al cucchiaio noi vi salutiamo grazie Francesco e buon lavoro qui all'interno del laboratorio di pasticceria c'è sempre un gran da fare grazie favorire l'auto imprenditorialità giovanile è l'obiettivo del bando Job Startup pubblicato dal comune di Gela l'amministrazione comunale con l'ausilio dell'ufficio Europa e Bandi vuole promuovere nuove idee imprenditoriali e giovanili in grado di creare occupazione e fornire ai giovani un'opportunità di valorizzazione delle loro idee saperi e talenti come risorsa per lo sviluppo del territorio ed accrescimento di competenze supportare idee che siano sostenibili e legate al territorio e sostenere l'accesso ai fondi legate alla nascita di nuove imprese i giovani che possono partecipare al bando singolarmente in team in associazione o come impresa devono essere residenti a Gela ed avere un'età tra i 18 e i 35 anni il fondo complessivo per nuove start up ammonta a 25 mila euro da erogare a fondo perduto ogni richiesta di contributo potrà usufruire di 4 mila euro le domande degli interessati debitamente istruite vanno presentate all'ufficio del protocollo del comune di Gela entro il prossimo 30 maggio fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste sacchetti zucchero e farina shopper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recesi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ed eccoci seconda parte del telegiornale prorogate fino al prossimo 28 febbraio le limitazioni al traffico in vigore sinora per ridurre l'inquinamento atmosferico in via Venezia a Gela la decisione è stata adottata dal primo cittadino Domenico Messinese su proposta del comandante della polizia municipale Giuseppe Montana in attesa di verificare nei prossimi giorni lo stato della qualità dell'aria con l'agenzia regionale per la protezione ambientale l'azienda sanitaria provinciale e i settori dell'ambiente del libero consorzio di Caltanissetta e del comune di Gela l'ordinanza ad orari prestabiliti riguarda soprattutto gli autoveicoli di massa complessiva superiore a pieno carico a 3 tonnellate e mezzo i mezzi esclusi sono quelli adibiti al trasporto di persone al soccorso o che svolgono pubblici servizi essenziali sospeso l'aumento dei contributi consortili per il 2015 a darne notizia il presidente del movimento consumatori Gioacchino Comparato dopo aver ricevuto la delibera emanata dal consorzio numero 4 di Caltanissetta una battaglia quella portata avanti dal movimento consumatori da cittadinanza attiva, dal collegio dei procuratori e dai comitati di tutela che nei mesi scorsi dopo un confronto serrato con il consorzio hanno chiesto la revoca degli aumenti del contributo per l'anno 2015 ritenuto illegittimo inoltrando allo stesso ente oltre 1500 istanze di annullamento in autotutela degli avvisi pervenuti ai consorziati L'obiettivo ora è quello di continuare a lavorare per ottenere l'annullamento definitivo scongiurando anche per gli anni a venire aumenti non proporzionati ai risultati conseguiti Questa battaglia è iniziata proprio da Mussomere nel momento in cui abbiamo scoperto che il consorzio di bonifica del numero 4 aumentava questi contributi da 18 euro a 76 euro con un aumento scandaloso del 422%. Io ho lanciato tramite la stampa questa notizia in un primo momento nessuno ha tenuto conto di ciò che io dicevo mentre poi quando sono incominciate ad arrivare le vere e proprie cartelle la piazza ha incominciato a rispondere perché questo aumento era veramente un aumento vergognoso Sicuramente è una notizia positiva anche se è una sospensione quindi non ancora un annullamento però è una notizia che in qualche modo apre una nuova fase di confronto e che ci lascia fiduciosi sulle possibilità di annullare questi ruoli Consideri che questa sospensione è stata resa possibile da una legge regionale che ha previsto che ha autorizzato i consorzi a sospendere momentaneamente i ruoli provvedendo a dotarli di un'idonea copertura finanziaria La sospensione riguarda tutti i ruoli emessi in provincia dal consorzio di bonifica Ed è giovani che si forma una coscienza collettiva e può svilupparsi una nuova educazione civica Da questa convinzione parte il progetto 2 di cuori Si tratta di un progetto teatrale che rappresenta un modo nuovo di fare promozione sulla donazione degli organi e di midollo osseo Il teatro come parte attiva nell'informazione della donazione e nello specifico della donazione di organi e midollo osseo Utile e fondamentale perché il dolore di una famiglia per la perdita di un proprio caro possa trasformarsi in un indispensabile dono per chi necessita di un trapianto 2 di cuori è stata scritta da Giuseppe Naretto anestesista e rianimatore dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino ed è messa in scena dai ragazzi dell'associazione Ollus con Salvatore nel cuore di San Cono Appuntamento oggi alle 20 al teatro comunale Eschilo di Gela L'ingresso è gratuito Omini, Mezziomini, Uminicchi e Quagoraqua è il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello e che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della biblioteca comunale in via Butera a Gela Relazionerà Biagio Pardo Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese E adesso parliamo di sport e calcio riprendono dopo le festività natalizie e i enelamenti del Gela Domenica si torna in campo, Alpresti sarà di scena il Pomigliano Si ricomincia, il Gela riprende a sudare in vista del primo impegno del 2017 Domenica Alpresti, prima gara di ritorno contro il Pomigliano Comincia se vogliamo un nuovo campionato La conferma giunge direttamente dall'allenatore Pietro Infantino Le squadre si sono rinforzate, hanno avuto il tempo di lavorare sugli elementi nuovi che hanno inserito nella rosa E inizia un altro campionato E noi dobbiamo essere pronti con le stesse caratteristiche che abbiamo avuto il giorno d'andata Quelle di essere aggressivi, di essere corti, di essere umili Di portare il lavoro quotidiano alla domenica Solamente questo, dobbiamo rimanere noi stessi Il tecnico Biancazzurro si ritiene soddisfatto di quanto ottenuto nel girone di andata Anche se manca in cascina qualche punto Per come eravamo partiti, sì Poi, strada facendo, questi ragazzi hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti Magari qualche punto in casa l'abbiamo perso Però c'è il giorno di ritorno per recuperare qualche punto E per fare, e per ripetere questo spendo di una l'andata La maglia del Gela pesa e come? E i giocatori lo hanno ben capito dal primo giorno E' una maglia importante nel panorama calcistico italiano Perché ha fatto campionati importanti Ha un pubblico numeroso E' una tifoseria che ha visto veramente un bel calcio Durante questi anni Sicuramente non è da tutti portare questa maglia Nel senso che ci vuole quella personalità, quella autostima Che in tante altre piazze magari ce ne vuole di meno Per blindare al nuovo anno bisogna battere domenica il Pomigliano E' l'imperativo categorico Che hanno un punto avanti a noi Se li scavalchiamo possiamo recuperare quella posizione che avevamo prima Sicuramente ci sono, dopo le soste ci sono moltissime incertezze Perché non sai come riprendi Non sai come affronti la prima dopo tanto tempo che non giochi Però noi batteremo, batteremo forte Per rimanere molto concentrati Per partire forte con le stesse caratteristiche che ho espresso prima Intanto sono già disponibili i tagliandi per la curva Angelo Boscaglia Al costo di 2 euro 200 e i biglietti che potranno essere ritirati in prevendita Contattando il numero 348 69 348 43 Lo ripetiamo 348 69 348 43 Non solo durante la pausa Tra il primo e il secondo tempo della partita di domenica prossima con il Pomigliano Verranno sorteggiati i titolari dei biglietti e dell'abbonamento Presenti sia in curva che in tribuna Che potranno così ricevere i gadget messi in palio dal club bianco-azzurro La vagina dello spettacolo è in proiezione al cineteatro antidoto di Macchidella a Gela Alle 17.30 il cartone animato Rock Dog Alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione Abbiamo concluso anche per oggi Grazie per averci seguito Appuntamento alle prossime edizioni Grazie per averci seguito